Sport, divertimento, aggregazione, condivisione di una passione e il solito occhio particolare rivolto al sociale. Tutto in un unico appuntamento, quello organizzato di recente presso il Centro Sportivo Barberini e Dalletra Barletta. Successo di partecipanti, circa 2000 al torneo di sfida di Barletta. Protagonisti, piccoli atleti, di età compresa tra i 5 e i 12 anni, 72. Le squadre coinvolte nell'iniziativa arrivate nella città della disfida non solo da ogni angolo della Puglia, ma anche dalla vicina Basilicata. I giovani calciatori si sono esibiti in diverse partite nelle differenti categorie inserite nel programma. Esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici. Sei i titoli assegnati, tre sono stati vinti dall'Eurosport Academy Brindisi, gli altri da Grand Football Corato, Real Biceglie e Liberti Canosa. Più in generale, in ogni caso, hanno trionfato tutti i partecipanti che si sono alternati durante l'intera giornata della manifestazione, così come ha vinto dal punto di vista organizzativo. Proprio l'Etra che ha mantenuto la promessa di portare a Barletta un evento di calcio giovanile caratterizzato da numeri sostanziosi e che in futuro certamente ripeterà l'iniziativa alla luce proprio del successo riscontrato. Il sudalizio sportivo della città della disfida, nato nel 2008 e già capace di raggiungere in meno di dieci anni traguardi importanti, ha riservato anche questa volta uno spazio di rilievo per il sociale. Il torneo di sfida di Barletta, infatti, ha coinvolto anche l'associazione Famiglia SMA e sensibilizzato i presenti a donare fondi per la ricerca finalizzata a sconfiggere l'atrofia muscolare spinale.